Quali sono i momenti che ti rimangono impressi nella memoria? Sono quelli che ricerchi continuamente. Quelli in cui esiste un'unica dimensione. Adesso. Sono i momenti che cancellano il tempo e lo spazio. Momenti in cui l'unica cosa che conta è stare bene. Momenti di scoperta. Momenti di stupore. Momenti di evasione. Sentiti parte di una storia di benessere millenaria. Una storia nata nel cuore delle montagne, dallo sgorgare di una singola, semplice goccia d'acqua. Dio sglare di un certo senatore. Nobana pensi adda nel cuore della green Sfregima Sfilo.